Sei pronto a ridere con queste barzellette sugli animali? Un uomo entra in un negozio di animali e chiede Quanto costa quel pappagallo lì? Il negoziante risponde Mille euro L'uomo, sorpreso, chiede E cosa sa fare di così speciale? Il negoziante risponde Niente, ma chi lo compra diventa il parlare di tutta la città Un elefante chiede a un cammello Perché hai le tette sulle spalle? Il cammello risponde Questo viene da un animale che ha il pene in faccia Una mucca e una gallina stanno chiacchierando La mucca dice Sai, io produco 25 litri di latte al giorno La gallina risponde Ah, sì E io produco 4 uova al giorno La mucca, un po' presuntuosa Dice, e allora? Io produco molto di più di te E la gallina, tranquilla, risponde Sì, ma almeno io non devo mostrare il culo per farlo Perché lo squalo non mangia le verdure? Perché non riesce a trovare la zuppa di cipolle sott'acqua? Perché la rana non parla con il serpente? Perché ha paura che il serpente la spilli? Perché il cane va d'accordo con il gatto? Perché il gatto non abbaiare?